Ma io farò di tutto, proprio di tutto, a costo di mettermi sui binari. La regione toscana è pronta a tutto pur di vedere avviato senza troppi slittamenti. Il cantiere per la TAV in zona Belfiore è previsto un incontro con ferrovie per chiedere tempi certi per la realizzazione dell'opera. Nei mesi scorsi il governatore Gianni insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella aveva ottenuto la conferma del via ai cantieri per il prossimo mese di settembre ma adesso tutto torna in discussione. Il collegamento Milano-Roma attraverso il capoluogo toscano comporterebbe due benefici la velocizzazione della tratta e libererebbe la stazione Santa Maria Novella per le migliaia di pendolari che ogni giorno raggiungono la città e che subiscono altri disagi. Ma questa è un'altra partita già aperta con ferrovie. Non è possibile che non si capisca quanto è importante per il sistema trasportistico italiano che il tratto da Roma a Milano debba essere in perfetta efficienza. In perfetta efficienza significa nel tratto fiorentino non dover invadere quello che sono i binari che poi sono i binari su cui vanno i pendolari, su cui vanno i terreni regionali, su cui va il traffico ordinario. Noi dobbiamo far capire a Roma in tutti i modi che ormai è ineludibile che quella voragine, quella cattedrale del deserto che è il foro che fra via circondaria e la fortezza da basso è presente debba essere sviluppata, portata avanti e con la talpa collegare per poco più di 6 km da via circondaria alla stazione Campomarte. A quel punto l'alta velocità ha un suo percorso, la fermata a Firenze è solo di 6 minuti e non di 14 minuti come oggi dover entrare dentro Santa Maria Novella e riuscirne fuori, libera i binari superficie sopra e veramente rende la sfida di andare in 2 ore e 45 minuti da Roma a Milano percorribile.